Ciao e benvenuti su Grandissima, il primo canale di YouTube di recensioni su calze, collant e altri prodotti femminili. Io sono Ariane e oggi vi parlerò delle collant fiore. Ho ricevuto questo pacco con queste calze da Amazon e la marca è Fiore, Golden Line Fiore. Gladys Patterned Tights. Dalla descrizione vedo che sono collant, molto probabilmente, black, fiore luxury superfine 4, 40 denari. Dietro come sempre trovate la tabellina con le varie taglie. Possiamo notare che sono collant dal disegnino qua dietro. La confezione è molto carina, molto colorata e veramente bene. Procedo all'apertura. Vi ricordo che sotto al video troverete il Facebook dove potete acquistare da Amazon la confezione. Allora, come potete vedere sono ancora dentro la costina di plastica. Tiro fuori tutto. Troviamo il cartoncino per proteggere le calze. Vi ricordo di mettere sempre un po' di prima nelle mani, in modo tale che non rischiate di romperle e di rovinarle. Allora, li apriamo per bene. Sì, sono decisamente delle collant, 40 denari, possiamo ben vederle. delle spesse. Sembrano anche molto resistenti. Qui sotto troviamo una cucitura. Nel lato no, quindi dovrebbe non dovrebbe essere scomoda. Davanti e dietro delle collant c'è una cucitura qui in mezzo. Dal disegno sembrano molto carine. Adesso indossate, bisogna vedere un attimo con che cosa possiamo avvinarle. E eccoci qui. Questo è il primo appoggiamento che ho scelto. Diciamo un complettino da giorno, per fare una passeggiata in città, in giro per i negozi o anche per andare a lavorare. Potrebbe andare qui. Come vedete, coprono molto. Quindi i 40 denari corrispondono effettivamente. E non so se riuscite a vedere da là. dopo mi avvicino. E il disegno arriva fino qua su. Quindi vuole un po' richiamare l'effetto autoreggente. Quindi qua bello spesso, bello nero. E qua un po' più incarnato, diciamo. Poi prosegue. Ho una linea che prosegue fino qua giù. E ho un ultimo disegno qua sotto. al tatto è prezzevole e morbido. Come potete vedere, o perlomeno io riesco a vedermi, le gambe mi piacciono molto. con queste calze. Soprattutto anche con il tacco bello alto. Mi dà un senso di... di longilinio. Anche a sedermi non mi fa particolarmente fastidio, per niente. Non mi sono sette, anzi è della misura perfetta, devo dire. e ho uscito questo outfit per... perché insomma, con delle calze e con questi disegni qua, sono anche molto belle da vedere, no? da far vedere questi ricami, questi disegni che riportano. Poi... per il resto non trovo nessun difetto. Anche la cucitura qua finale, vicino alle dita, ai piedi, non mi dà particolarmente fastidio. Anzi, devo dire che ci sono delle calze che hanno una cucitura molto spessa. E dopo un po' che ci cammini su, o anche appena le metti, senti proprio il fastidio, no? Invece devo dire che mi trovo molto bene. Sono molto morbida al tatto. Comode, devo dire. Mi piace anche questa morbidezza che c'è qua sotto. Che si sente e si vede di più l'effetto 40 dei nodi, ovviamente. Vi ripeto che ha un effetto un po' autoreggente, no? Arrivando qua, come gli autoreggenti. E qua invece è un po' più colore della pelle. Lasciamo un po' entra a vedere il colore della pelle. Il disegno continua fino a su. E anche c'è una linea qua che continua fino a qua giù. Io le acquisterei. Le acquisterei molto ben entieri. Questo è l'outfit che ho scelto un po' più serale. Perfetto per fare aperitivi o anche per una cena molto romantica. E ho scelto un gavido nero con ricami in pizzo. Che, se vogliamo, si associa molto al disegno delle calze. E trovo molto, molto in sintonia con tutto ciò. E mi piace moltissimo. Spero che sia anche a voi. E come vi dicevo prima, al tatto sono molto morbide e non vi hanno nessun tipo di fastidio. Il disegno dove finisce, che richiamo un po' sempre questo effetto autoreggente. Qua c'è il disegno che prosegue fino a giù. Le calze non le ho ancora tolte dallo scambio dell'outfit e non ho ancora avuto fastidio dalla parte della cucitura. Per il resto, io direi che sono delle calze fatte molto bene. Ancora, non ci sono ancora rotte, nonostante continuo a toccarle. Io le trovo molto, molto sensuali, ripeto. Vi faccio vedere anche senza le scarpe. Come potete vedere. Tiro per bene. La cucitura è qua sotto. Che dire? A me piacciono molto. Vi ricordo sempre che il link lo potete trovare sotto al video, nella descrizione. E in queste rete è su Amazon. che erano sedite da Amazon. Per me sono delle calze molto resistenti, devo dire. Anche vi ricordo sempre che sono 40 anni normali, quindi rispettano proprio la descrizione. Per il resto, io vi ringrazio, vi ringrazio per aver visto questo video. Vi aspetto per i prossimi. Io sono Ariandis e a presto. Alla prossima!